Basta, levateci la spazzatura dalle strade, levateci la spazzatura dai marciapiedi, fateci vivere in una città pulita, spendeteli con criterio in ottimo. Basta, levateci la spazzatura dalle strade, levateci la spazzatura dalle strade, levateci la spazzatura Oltre 300 cittadini giovedì 30 agosto si sono ritrovati innanzi al comune di Giarre a protestare per i disservizi della raccolta rifiuti sul territorio. L'idea, nata su Facebook, ha voluto rompere il silenzio delle istituzioni sin da subito, promettendo massima vigilanza affinché si faccia la raccolta rifiuti e la differenziata. Vengono, che non è la seconda Ligua, da Imu, attenzione, hai scenduto di nuovo in piazza, come altra di mezzo punto percentuale lì. E' una vergogna! E' una vergogna! E' una vergogna! E' una vergogna! Mi vergogno di essere siciliano E mi sono vergognato con i turisti che sono scesi in Sicilia E non sono del 42% 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 E non sono del 43% L'economia del nostro territorio è affrontata, come diceva chi mi ha preceduto, uno schifo, una buona pena esplicitata, è buona, è buona, è buona, è buona, è buona. Scusate, il sindaco ci ha chiamati a partecipare, ci pare a un brevissimo incontro, vi rapporteremo su quello che ci diremo. I sindaci notoriamente si ricordano di noi solo quando manifestiamo. Cari sindaci, il servizio lo strapaghiamo, ce lo fate strapagare, a Giarre paghiamo più del 100% dell'intero costo del servizio. Cosa fate con i nostri soldi? A casa, tutti a casa, l'italità deve stare a casa, che lo facciano, che facciano funzionare questa differenziata. E ne sono tutti, ora che non funziona, hanno dato l'ala senza cibo che si cominciasse il 16 luglio senza preparazione, senza informazioni, senza organizzazione, se raccontano ala incapaci. Se non avessimo intento questa manifestazione per oggi, ancora nessuna ordinanza ci sarebbe stata. E non venitevi a dire che gli strumenti adottati erano efficaci, falliativi, falliativi. Non avete fatto niente per risolvere questo problema, ve ne è fregato altamente. Come se l'infondizio non ricoprisse anche le vostre case, le vostre strade. noi differenziamo e trabajiamo per questo servizio. Cosa ne fate di questi rifiuti? Dove vi portate? Quanto pagate? Vogliamo trasparenza, vogliamo sapere tutto il percorso della nostra laurea. Dove siete? Qua sotto dovete scendere? Qua, 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 noi. Scendi, 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 sindaco scendi, 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 Dovevamo essere un po' di più, potevamo essere decisamente di più, purtroppo noi ci lamentiamo ma al momento di agire lo devono fare gli altri perché non è una cosa che ci riguarda quindi anche noi abbiamo la nostra cittadinanza. Sono quelle che sono, non si fa niente per aiutare la cittadinanza con tutte queste situazioni che bene o male dovevano arrivare in questa situazione perché era questione solo di tempo e ora siamo arrivati qui a contestare questa situazione con tutti questi soldi che sono da pagare che non c'è servizio. Secondo me la differenziata non sarebbe dovuta partire in questo periodo, aspettare quantomeno che finisimo, già partire da questo e penso che qualche disagio in meno ci sarebbe stato poi per il resto è inutile commentare perché ci sono le foto che parlano da sola e un po' tutti sappiamo come è la situazione. Siamo in quale, poca partecipazione però speriamo che si possa fare qualcosa che è. Grazie. 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 Grazie.